Con ancora due scontri diretti in programma il sogno playoff per il Magente ancora vivo per cercare di alimentarlo stasera i gialloblu di Lorenzi dovranno affrontare l'ardorlazzate di Stincone. Buonasera amici di Bepi TV, davanti a voi il centro sportivo Angelo Moratti di Ossona, dietro al microfono Viaggio Marco Riccardo che vi racconterà magenta. Ardorlazzate, turno infrasettimanale per la trentaquattresima giornata del girone A di eccellenza Lombarda. Va Pedrochi! Solo illusione ottica del gol, palla che si infrange sull'esterno della rete. Avevano gridato al gol qui in tribuna. In avanti a cercare l'inserimento di Doria, un paio di finte Doria, cross al centro e diventa un tiro! E si inzacca il gol del Magenta, il ventesimo stagionale di Alex Doria. 1-0! Tra Donofri e Nesmi, vinta da Nesmi che però schizza male il pallone, poi va ad intercettarla con un braccio! Calcio di rigore! Calcio di rigore per il Lazzate. Sta succedendo di tutto in questi primi dieci minuti. Il primo gol stagionale va Artaria Vozza! Para il rigore! Enrico Vozza! Qui bello l'1-2 tra Nesmi e Pederniana, forse c'è fallo. L'arbitro dice di no. Doria col destro! Che termina in corner. C'è stata la deviazione da parte di Ferloni. C'è ovviamente Mammetti. Va Pedrochi! Troppo basso sul primo pallone che torna però l'emittente. Poi Artaria riesce ad andare via. In qualche modo proprio al numero 6 per il Magenta. Eccolo qui il fischio. Allora riparte con il primo possesso dell'Azzate. Questa ripresa entra. Va col destro al cross. Alle spalle di tutti arriva Rondina! In qualche modo riesce Vozza a metterci il pugno ad allontanare la minaccia. Pedrocchi lungo a cercare Mammetti. Mammetti può andare col Mancino. Mammetti! Sfiora il gol del 2 a 0 il Magenta con la conclusione mancina di Giacomo Mammetti che non è riuscito ad inquadrare la porta. Pallone che arriva alla conclusione! Vozza! Grande conclusione di Bianchi dalla trequarti campo. Martaria con il pallone che però non si abbassa. dell'area. Vani Castri al cross. Secondo palo. Non riesce ad arrivare la deviazione di un giocatore dell'Azzate. Cross al centro. Vozza anticipato. Pallone che rimane lì! Allontanato in qualche modo dalla difesa del Magenta che forse qui si guadagna un fallo. Anzi si guadagna i tre punti perché arriva il fischio del direttore di gara che decreta la vittoria del Magenta sull'Ardor Lazzate. Una partita bella e ricca di occasioni decisa al nono minuto dalla rete di Alessandro Doria. Al decimo minuto c'era stata la più grande occasione del match per il Lazzate con il rigore fallito da Luca Artaria che è stato ipnotizzato da Enrico Vozza che non ha fatto rimpiangere il titolare Rimbu.